Siamo con Pino Salamon, presidente di ADOC, ossia dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Vogliamo parlare di un interessantissimo progetto portato avanti, sposato da ADOC, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Informo, assisto e tutelo. Questo è il nome del progetto, ossia informazione digitale sulla filiera alimentare, l'etichettatura degli alimenti e la corretta conservazione del cibo come strumento per prevenire gli sprechi e salvaguardare l'ambiente. Presidente, parliamo di questa iniziativa come è nata, come si sta sviluppando, proprio le finalità della stessa. Sono due anni che con l'ente regione procediamo a fare questi progetti nei confronti del consumatore per permettergli di conoscere sempre più a fondo una materia come quella dell'alimentazione. Per alimentazione naturalmente riteniamo che si parli di prodotti, di prodotti trasformati o anche di somministrazione dei prodotti, quindi di conseguenza facciamo in modo che si possa sempre stare nella condizione di poter rendere il consumatore più edotto in termini di alimentazione. Quest'anno abbiamo qualche difficoltà in effetti perché questo coronavirus ci ha messo nella condizione di non poter organizzare iniziative con presenze fisiche e quindi di conseguenza cerchiamo anche attraverso i canali televisivi o attraverso i canali tecnologici di internet di fare in modo che si possa diffondere questa informazione e far sì che il messaggio giunga preciso alla testa dei consumatori. Presidente, l'obiettivo è certamente dare al consumatore, creare nel consumatore una maggiore consapevolezza attraverso le conoscenze necessarie che lo orientino ad una migliore capacità di scelta e in questa la politica del consumatore che deve saper scegliere sulla base di informazioni che voi cercate di infondere, di diffondere. Sì, è questo il nostro obiettivo perché evidentemente ci sono molte regole e molte normative che vanno rispettate sia da parte di coloro i quali devono produrre e quindi commercializzare il prodotto e sia da parte di coloro i quali devono acquistare che a loro volta devono sapere che ci sono determinate regole o norme che vanno rispettate per poter essere garantiti nell'acquisto finale del prodotto. Quindi di conseguenza anche su questo progetto che stiamo realizzando in forma assisto-tutelo e che procederemo qui fra poco a esporre questi elementi di conoscenza vedremo un attimino come si può essere capaci di apprendere di più e quindi di essere all'altezza e più consapevoli del compito. Grazie a tutti! Grazie a tutti!